E' scesa in piazza stamani a Pescara la rabbia dei precari della ASL senza lavoro dalla fine di febbraio per il mancato rinnovo dei contratti e al termine di una carriera sia pure instabile che in alcuni casi era decennale. Alloro nel corteo partito davanti alla direzione generale della ASL per dirigersi sotto l'assessorato regionale della sanità ci sono uniti altri lavoratori precari del comparto provenienti dalle altre ASL abruzzesi. Il problema si aggrava giorno dopo giorno perché con la legislazione attuale paradossalmente vanno a casa quelli che hanno maturato i requisiti per la stabilizzazione con il cinismo di un'amministrazione aziendale che continua a ripetere che loro garantiranno i livelli essenziali semplicemente facendo scorrere graduatorie di avvisi create ad arte per non avere poi il problema verso la pubblica opinione. La situazione non ha dunque conosciute evoluzioni negli ultimi giorni se non quella della perdita del lavoro. L'interlocuzione con le istituzioni comunque prosegue con qualche apertura da parte dell'assessore Venturoni spiega Mario Fritelli di RDB la sigla che assieme a Cobas e Comitato Precari ha organizzato la manifestazione. Ci sono state delle affermazioni dell'assessore che ovviamente ci fanno ben sperare nel momento stesso in cui dice che è possibile la stabilizzazione per gli aventi diritto a noi questo non può che far piacere. Ovviamente non è risolutivo perché comunque nell'ambito del precariato tutti i co-co-co sarebbero comunque tagliati fuori. Noi chiediamo per loro una soluzione che sia definitiva quanto per i tempi determinati. Al corteo hanno aderito anche due forze politiche il Partito Comunista dei Lavoratori e Rifondazione Comunista il cui consigliere regionale Maurizio Acerbo ricorda che per questi lavoratori c'è un impegno formale e condiviso da parte dell'Assemblea dell'emiciclo. C'è una risoluzione votata all'unanimità dal Consiglio regionale, ovviamente si tratta di un impegno di principio. Adesso è compito del Presidente della Giunta unitamente a tutto il Consiglio a trovare le soluzioni e a chiedere al Commissario Redigolo e quindi al Governo di non tenere un atteggiamento di rigidità ottusa. Il taglio del personale non è garanzia come ha spiegato il Procuratore Generale della Corte dei Conti di risparmio nella sanità perché spesso si traduce nel fatto che un maggior numero di cittadini si rivolge alla sanità privata e questo produce un aumento della spesa non della diminuzione. E quindi c'è bisogno di avere coraggio e di approfondire i problemi, i lavoratori fanno bene a protestare e spero che tengano duro e che vincano la rassegnazione e la delusione per quello che ha fatto la politica nella sanità in Abruzzo in questi anni. Tengo a precisare una cosa che è assurdo che dopo gli sprechi e le luberie che ci sono stati per un ventennio a pagare debbano essere precari.